ciao a tutti sono bello del canale bello film e series bentornati in questo nuovo video di nuovo a tema vanda vision però prima di cominciare vi ricordo di mettere like al video quindi pollice in su e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice click sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di youtube allora siamo arrivati alla settima puntata questa puntata si intitola infrangere la quarta parete perché perché tutta la sitcom si ispira agli anni 2000 quindi a mother family si sposa benissimo fra l'altro questo tipo di format con la puntata che abbiamo visto perché abbiamo il contatto diretto col pubblico abbiamo queste specie di interviste come c'erano in mother family però secondo me più che infrange la quarta parete questa puntata la potevano chiamare cambia tutto perché cambia tutto perché col finale a sorpresa che ci hanno messo e soprattutto con la scena post credit che ci hanno messo ci hanno ribaltato tutta quanta la situazione da così a così però cosa è successo prima in questa puntata facendo un mini riassuntino e dividendo fra quello che succede dentro la bolla e quello che succede fuori la bolla allora bellissimo l'inizio perché vediamo vanda dalla scorsa puntata che si deve riprendere praticamente al limite dell'esaurimento nervoso perché ha problemi con i figli ha problemi con lo zio che adesso dice essere un impostore quindi billy e tommy sono un po spesati lei non sa cosa fare non sa come fare se non che arriva agnes agnes a dirgli sai che c'è da buona vicina ti aiuto io ti tengo io i figli così tu ti rilassi un po ma anche quando lei si rilassa vediamo tutta la casa che sfasa vediamo il passaggio fra le varie sitcom che abbiamo visto quindi degli oggetti passano ad essere dagli anni 50 agli anni 60 agli anni 70 mentre guarda la tv cambiano i programmi insomma è un gran caos e fra l'altro il fatto che ha lasciato billy e tommy lei non lo sa ad agnes la fa stare tranquilla ma poi non sarà così e ci torniamo su dopo come ho detto prima visto il finale a sorpresa nel frattempo invece mentre vanda fa fatica a raccapezzarsi vediamo visione visione si è ripreso perché dopo che vanda ha allargato l'esa si è ripreso è in grande forma risveglia darsi e la toglie dall'impiccio del circo che faceva era sì simpatico però tutta la puntata con darsi all'interno del circo anche no e loro tentano partono per il centro di westview perché perché visione vuole andare da vanda e vuole vedere risolvere la situazione con sua moglie durante il viaggio però intanto apprende delle cose da darsi cioè darsi gli spiega chi era gli spiega cosa ha fatto gli spiega cosa è successo chi era thanos tutto quello che è successo quando mentre visione era negli avengers quindi lui non sapendo niente utilizza darsi come fonte di informazioni e gli serve anche per capire il dolore che ha provato vanda con la morte di visione con la sua morte però mentre cercano di arrivare in città non ci riescono non ci riescono perché perché succede sempre qualcosa c'è un semaforo che non va o ci sono dei lavori in corso c'è la scolaresca con i bambini che passa e infatti tutti e due cominciano a domandarsi ma non è che qualcuno forse non vuole che arrivi in città e visione dice non è che vanda non mi vuole a casa però visto il finale possiamo pensare che non sia solo vanda che non lo voglia a casa ma che ci sia anche qualcun altro che non lo vuole a casa cioè agnes quindi molto divertente tutti gli sketch fra visione darsi sono un po loro i comic relief di questa puntata mentre fuori cosa sta succedendo fuori abbiamo il direttore che come avevo detto io l'altra volta mi aspettavo una rappresaglia sua e infatti si sta organizzando e dovrebbero attaccare l'esa dovrebbero attaccare la bolla entro la giornata quindi molto molto presto mentre la rambo e gmw che dovevano andare da questo benedetto ingegnere l'ingegnere non lo vediamo perché arrivano su un campo militare amici della rambo che era da un'altra parte sempre al limite dell'esa e vediamo finalmente questo caro armatino quello del trailer ecco questa è stata forse la parte che mi ha deluso un po di più della puntata perché questo caro armato io mi immaginavo chissà che cosa invece non è servito quasi a niente cioè è servito per farci capire che non si può entrare nell'esa con anche attrezzature avanzatissime ci dicono che il caro armatino è stato fatto con tecnologie aereo spaziali quindi non sappiamo da chi l'ingegnere non lo vediamo tutti quanti avevano pensato a rinricias però probabilmente come ho detto nell'altro video troppo prematuro vederlo e poi non è neanche detto che sia lui ma cosa serve tutta la scena del caro armato serve a far entrare di nuovo monica all'interno dell'esa però non entra col caro armato ma entra da sola cioè entra come era entrata la prima volta viene aspirata dal campo di forza e quando viene aspirata dal campo di forza che jim vu gli dice no non lo fare non lo fare mentre lei lo fa perché vuole andare a salvare vanda abbiamo la trasformazione di monica rambo in foto lei uscita dal campo di forza molto bella la scena perché si vede proprio il trapasso che fa di tutte queste onde elettromagnetiche cosmiche raggi cosmici quello da cui è composto l'esa quindi lei è ufficialmente una super eroina perché perché photon nei fumetti ha la capacità di governare un po tutti i tipi di energia quindi elettrica elettromagnetismo della luce chi più ne ha più ne metta non è detto che qua nella serie sia così perché non sappiamo ancora bene che poteri ha monica rambo però ce lo fanno intuire e ufficialmente lei è una super eroina ma mi sono dimenticato di dire una cosa importante su visione perché in questo episodio scopriamo che il direttore voleva recuperare visione quindi non lo voleva smembrare ma anzi il contrario probabilmente lo voleva rianimare ricostruire per qualche suo scopo scopo buono scopo cattivo non lo sappiamo perché ancora non abbiamo capito qual è l'intento del direttore dello svolto certo è che quando lui ha fatto vedere il video di vanda che andava a riprendersi il marito per screditare vanda probabilmente voleva solo puntare il dito su vanda per far vedere a tutti che lei fosse la cattiva però può essere che vanda sa qualcosa sullo svolto o ha scoperto qualcosa che lo svolto voleva fare a visione quindi era andata la semplicemente per riprendersi però ovviamente questo il direttore non l'ha detto e lui ci vuole far credere sia a noi che a tutti gli altri l'esatto contrario staremo a vedere ma tornando alla rambò lei si reca da vanda e una volta da vanda gli dice guarda non puoi andare avanti così tutti quanti credono che tu sia la cattiva io invece sono qua perché credo in te e togli l'esa togli la bolla vanda però non ci sente perché lei ovviamente vuole difendere la propria realtà tutto quello che ha creato ed è in questo momento qua che compare di nuovo per magia Agnes Agnes e qua arriva il bello perché Agnes tranquillizza vanda gli dice vieni anche tu a casa mia che ci sono già Tommy e Billy che stanno facendo merendino vanda ovviamente la segue entra in casa di Agnes non ci sono Billy e Tommy e Agnes dice devono essere andati giù forse a giocare nello scantinato lei va anche lei nello scantinato per scendere intanto già mentre scende si vede già che cambia l'ambientazione diventa già da anni 2000 a misticismo si vedono le radici sembra un altro segreto come lei scende giù c'è un libro strano che appare che c'è già chi dice potrebbe essere il libro di dottor strange o uno dei libri sulla magia che tiene dottor strange nella sua biblioteca questo sinceramente non lo so dovrei andarmelo a ricercare però nel mentre che vanda si sta rigirando per capire cosa sta succedendo perché sente anche un po di voci mi pare arriva giù Agnes che gli dici pensi di essere l'unica ad utilizzare la magia in città non sei l'unica ad utilizzare la magia perché perché ci sono anch'io che sono Agatha Agnes e quindi qua dopo tutto quello che era stato detto su Agnes alla fine lei è per davvero Agatha Agnes e boom partono i titoli di coda partono i titoli di coda ci fanno vedere un escursus di tutte le puntate quindi da quelle in bianco e nero fino a quelle a colori dove lei ha imbrogliato vanda e non solo vanda ma ha imbrogliato anche visione la si vede lei dietro a pietro quando con la magia va per ravvivarlo quindi è stata lei a portare pietro a westview e ahimè è sempre lei ad aver ucciso il povero cagnolino il povero sparchi e boom di nuovo finisce la puntata io sono rimasto così esterefatto mi guardo i titoli di coda titoli di coda e alla fine di titoli di coda dopo la sigla scena post credit ricompare di nuovo la Rambeau si vede che va nella casa di Agnes si vede che trova la classica porta quelle raso terra che hanno gli americani per lo scantinato vede di nuovo le radici lo scantinato mistico va per entrare si gira si sente la voce chi è pietro e finisce anche la scena post credit probabilmente gli da una botta in testa probabilmente la stordisce e quindi finisce la tutta quanta la puntata così rimasto così quindi pietro potrebbe essere il marito di Agnes oppure solo uno scagnozzo di Agnes di Agatha chi lo sa altre domande su domande altri misteri su misteri quello che è certo però è che Marvel Studios ci hanno imbrogliato tutti quanti perché all'inizio tutti pensavano che Agnes Agatha Agnes fosse la cattiva poi vedendo pian piano le puntate io per primo ho detto no impossibile lei recita solo una parte è una cittadina come tutte le altre comandata da Wanda invece alla fine non è così però ci si domanda ma adesso sappiamo che il villain probabilmente è Agatha Agnes ma a cosa serve Agatha Agnes cosa a che fare con Wanda dai fumetti sappiamo che lei è una delle mentori di Wanda e gli ha insegnato a sviluppare e utilizzare la magia ma qua nella serie è buona è cattiva perché fino adesso è rimasta nascosta ha approfittato della situazione probabilmente è così probabilmente Wanda ha creato l'ESA perché è lei che abbiamo visto nella scorsa puntata a estendere ancora di più l'ESA per salvare visione quindi è lei che ha il potere di creare la realtà alternativa probabilmente poi è arrivata Agatha per qualche motivo e ha approfittato del dolore di Wanda e in qualche modo cerca di avere vantaggio da quello che è successo a Westview qual è il vantaggio qual è il suo piano c'è un piano superiore non lo so come avevo detto l'altra volta ero già convinto che Wanda non avesse tutto fatto tutto quanto da sola e lei per prima diceva io non riesco a capire come mai succedono certe cose oppure chi governa tutta quanta Westview e probabilmente un aiuto inconsapevole ce l'ha avuto da Agatha però quale sia lo scopo di Agatha quale sia l'obiettivo di Agatha ancora noi non lo sappiamo anche perché fino all'altro giorno io per primo pensavo fosse una cittadina qualunque mancano due episodi però le domande le domande i misteri sono sempre di più e visione invece? Visione sembra essere l'unico capace di agire in maniera autonoma l'unico che non è influenzato da nessuno che è mentalmente stabile sta tornando da Wanda e adesso abbiamo i quattro personaggi abbiamo Wanda, abbiamo Visione, abbiamo Agatha Harkness e abbiamo Monica Rambeau bisogna vedere come si evolverà in queste due ultime puntate l'unione fra questi quattro personaggi dobbiamo vedere se Agatha sarà per davvero la cattiva, la villain oppure no bisogna capire Wanda come reagirà a tutto questo caos e soprattutto all'attacco dello Svore che sta arrivando e che sembra la voglia uccidere, che voglia distruggere tutto Visione probabilmente è l'unico punto fermo di Wanda ed è per quello che dico che sarà lui l'ago della bilancia perché se Wanda alla fine dovrà ascoltare qualcuno ascolterà Visione il problema è che lui non può sopravvivere fuori dall'ESA quindi come andrà avanti la battaglia con lo Svore Wanda sarà pronta a sacrificare nuovamente Visione? non lo sappiamo, insomma le domande sono tante c'è Agatha, c'è ancora Pietro, c'è la Rambeau che ha acquisito i superpoteri c'è Wanda in difficoltà che non sa cosa fare mancano due puntate che sono anche poco per risolvere tutti questi misteri in una serie normale avrei detto beh faranno sicuramente una seconda stagione qua la seconda stagione sappiamo già che non c'è quindi in queste due puntate come ho sempre detto fin dall'inizio vedremo il Diavolo A4, vedremo il disastro detto questo ho detto tutto spero che la recensione di questo mio episodio vi sia piaciuta e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio e ciao a tutti da Bellufea al prossimo video! Grazie! 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 Grazie!